Noi siamo la dimostrazione che la Sardegna ancora reagisce, che il mondo delle campagne e il mondo dell'industria non sono uno contro l'altro, ma camminano paralleli per lo sviluppo, per l'occupazione, per il lavoro, per la dignità. Noi siamo quelli che rivendicano quel diritto e i loro comparti perché le campagne, perché il mondo dei pastori abbia il giusto sostegno, il giusto supporto in un momento di gravissima crisi come mai vista per questa popolazione. Perché i pastori siamo tutti tutti i operai, tutti i pastori.